L'ammutinamento del banchilo, lo puoi stare? Sì, si fa, si fa, si fa, ragazzi. Vi dobbiamo salutare con questa. Se siete nati o avete figli che sono nati negli anni 90, sicuramente questa canzone sicuro l'avete già sentita. Noi vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto, anche per i cori, per gli applausi, veramente. Speriamo? Grazie di cuore, grazie all'amministrazione comunale, per la biblioteca, a Selene, ad Angelo. Grazie a voi, grazie. Se volete salire anche voi a fare sta trisciata con noi. Grazie al bar e al giardino. Enrico, non distrarlo, dai. Allora, vogliamo ringraziarvi perché, ragazzi, è stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio, amici addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma, ehi, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Poglio ritornare. Addio, addio, amici addio. Addio. Venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa Brum Torneranno per giocare con voi qui con voi, qui con voi, qui con voi. Grazie a tutti. Grazie. È stato bellissimo. Grazie. 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 Grazie.